benvenuti buongiorno buongiorno benvenuti a questa nuovo tutorial salvatore a darvi il benvenuto da tutto il team di accademia del trading punto com in questo video andremo a riprendere la rubrica come realizzare un expert advisor partendo da zero in particolar modo ci soffermeremo su un argomento molto richiesto molto interessante molto speculativo ovvero parleremo di anti martingala e di martingala definiremo quelle che sono le differenze tra uno strumento e l'altro in quanto mi sono accorto che ci sono dei vengono venduti dei corsi a 4 5 mila euro solo per spiegare quello che il funzionamento dell'anti martingala quindi oggi attraverso questo video se riuscirete a seguirmi fino al termine cercheremo di risparmiare questi 5 mila euro insomma perché ho visto che c'è qualcuno che vende un corso da 4 5 mila euro per spiegare così l'anti martingala in più vi metterò insomma in sovraimpressione un expert che lavora come l'anti martingala ma non solo fa ancora di più fa qualcosa di più importante e quindi lo vedremo insieme faremo un back test e così via ma partiamo dalla definizione di appunto martingala e anti martingala vi ricordo ovviamente il sito www.accademia del trading.com quindi per insomma andare a guardare insomma qualcosina ci sono cose molto interessanti abbiamo il blog con le basi del trading gli amici della rubrica come realizzare un expert advisor partendo da zero e tante altre cose molto interessanti concentriamoci adesso e cerchiamo di dare una spiegazione semplice in poche righe che ci permetterà di risparmiare i 5 mila euro di corso a buon intenditore poche parole mi corre l'obbligo ovviamente di leggervi il disclaimer perché perché io adesso oggi vi parlerò di una ferrari e la prossima volta vi parlerò di una lamborghini ovvero di anti martingala e martingala sia ferrari che lamborghini devono essere guidate da chi è un pilota insomma un bravo pilota non dico un pilota di formula 1 ma comunque un bravo pilota perché se no il rischio di mettersi sulla ferrari o su una lamborghini è quello di andare a schiantarsi quindi mi corre assolutamente l'obbligo di leggervi queste due righe mi raccomando di rimanere fino alla fine perché vi farò vedere appunto l'expert advisor e quindi compenserò tutto questo periodo di assenza nella rubrica come realizzare un expert advisor partendo da zero ovviamente l'ho ripreso di nuovo perché ho visto il grande successo che ha avuto appunto il la rubrica come realizzare un expert advisor partendo da zero spero che sia un successo dovuto alla curiosità e non al fatto di fare soldi e subito perché come sapete bene nel trading sia automatico che discrezionale fare soldi subito purtroppo non funziona anzi si ottiene diciamo il risultato contrario allora leggiamo queste due righe velocemente quindi accademia del trading offre una consulenza generale sul trading che non prende in considerazione le vostre esperienze di trading i vostri obiettivi personali i mezzi finanziari o la tolleranza al rischio si precisa che l'andamento del passato non è indicativo di risultati futuri prima di effettuare una registrazione o di cominciare a fare trading online quindi prima iniziare a fare trading online con il forex o attraverso i broker di cfd si prega di approfondire tutti i rischi associati a questa attività tutte le informazioni che troverete sono pubblicate solo per scopi informativi quindi vi ho praticamente detto che la ferrari è una macchina molto bella molto attraente ma il limite di velocità rimane sempre nelle autostrade italiane di 120 chilometri orari ok nel momento in cui superate il limite di velocità rischiate di ammazzarvi o di prendere una multa salatissima andiamo al dunque vediamo come risparmiare 5 mila euro di corso di formazione dove vi spiegano art anti martingale martingala ok allora andiamo che cos'è la martingala martingala sono una serie di operazioni crescenti nella direzione opposta a quella che sta prendendo il mercato quindi se il mercato è long la martingala aprirà operazioni crescenti ad esempio partiamo da 0,01 in cell 0,02 in cell 0,03 in cell eccetera eccetera ok quindi questa è la martingala martingala sostanzialmente opera al contrario del della direzione di mercato ok avendo operazioni sempre crescenti che brutto aspettate che ne faccio un altro ad esempio facciamo un disegnino giusto per capirci vediamo se ci riesco a fare un disegnino quindi supponiamo di avere un trend crescente ok la martingala cosa fa martingala semplicemente inizia ad aprire operazioni quindi la prima operazione da 0,01 supponiamo 0,01 poi ognuno in cell quindi va contro il trend 0,02 0,03 e così via le distanze e i moltiplicatori cambiano ok qual è il problema di questa ferrari il problema di questa ferrari è che o devi avere un capitale illimitato per poter sostenere questa crescita perché sapete che il mercato per il 70% è laterale per il 30% è direzionale quindi il pilota che cosa deve fare deve essere bravo a individuare quel 70% in cui il mercato è laterale e quindi può utilizzare la martingala diversamente per utilizzare la martingala ci vuole un capitale infinito nel senso che può continuare ad avere operazioni all'infinito oppure il bravo pilota dice ok costruisco questa operazione mi do 4 o 5 occasioni per poter portare a casa l'operazione quando il mercato gira quando il mercato torna chiudo tutto ok quando il mercato torna io al mio punto di pareggio chiudo tutto ho il mio profitto oppure diversamente diventa molto pericoloso questa è la martingala ok molto semplice andiamo adesso all'anti martingala quindi l'argomento di cui parleremo oggi e se attenderai fino al termine del tutorial ci sarà anche l'expert advisor che non solo farà anti martingala ma farà anche un'altra cosa quindi attendi perché ti posso assicurare che oggi rimarrai contento di questo tutorial mi raccomando se ti piace ovviamente like share iscriviti al canale attiva la campanellina bla 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 quindi la martingala l'abbiamo vista ora dobbiamo capire invece l'anti martingala ragazzi in due righe ve la sto spiegando state risparmiando 5 mila euro vi rendete conto oppure no che cos'è l'anti martingala l'anti martingala è una serie sono ovviamente parliamo di martingala anti martingala applicata al mondo del trading ovviamente ognuno può applicare al mondo dei giochi la teoria dei giochi la può applicare al casino dove vuole sto parlando dell'applicazione nel mondo del trading online in particolare del forex indici ma dire prima quello che volete l'anti martingala è sostanzialmente costituito da un insieme di operazioni crescenti nella direzione uguale a quella che sta prendendo il mercato quindi se il mercato è long l'anti martingala cosa fa inizia ad aprire una serie di operazioni crescenti in quella direzione quindi 0 0 1 0 0 2 0 0 3 eccetera andiamo a guardare l'esempio il disegnino abbiamo detto ci troviamo in un mercato long ok ok quindi abbiamo un trend visto l'ho fatto più bellino questa volta quindi abbiamo un trend rialzista vabbè quello che è siamo in un mercato long abbiamo un trend rialzista cosa fa l'anti martingala prima operazione 0 0 1 in buy perché il mercato è long 0 0 2 in buy 0 0 3 in buy eccetera eccetera ok quindi cosa fa apre sostanzialmente delle operazioni cresce una serie di operazioni crescenti nella direzione del mercato quindi al contrario del martingale in questo caso dobbiamo essere bravi a individuo il pilota deve essere bravo a individuare il 30 per cento del dei movimenti del mercato che sono direzionali perché poco fa di cosa abbiamo detto che per il 70 per cento del tempo quindi per la maggior parte del tempo il mercato è laterale per il 30 per cento il mercato è direzionale cioè prende una direzione o long o short in questo caso se il pilota è bravo utilizzando l'anti martingala può avere un una perdita sicura dice più di 500 euro io totale in questo conto non posso perdere 200 euro quello che volete è teoricamente un guadagno infinito se riesco a individuare questa questa questo 30 per cento di mercato direzionale che cosa può essere questo 30 per cento di mercato direzionale avete visto quello che è successo durante il coronavirus non c'è bisogno di aggiungere altro i movimenti del mercato sono stati diciamo lunghi estesi stati impulsi veramente molto importanti che hanno caratterizzato sia il mercato valutario sia il mercato degli indici sia il mercato delle materie prime rimanendo in tema di materie prime abbiamo visto come il petrolio ha rasentato lo zero interessate a questa tipologia di lavoro cioè cosa voglio dire se io prendo vista del mercato io prendo il dax ad esempio se io entro qua sopra dice ma come faccio a sapere qua sopra qua sopra sono sui massimi sono su un grafico settimanale qua sopra sono sui massimi sui massimi storici non c'è più niente ok quindi qua stiamo parlando adesso pre coronavirus se io entro qua sopra e attivo un anti martingala qua sopra e c'è 500 euro sul conto capite che io qua posso guadagnare pure 10.000 euro con l'anti martingala ok magari prenderò lo stop loss un paio di volte ma quando mi entra l'operazione io posso guadagnare perché perché io qua non so se il mercato continuerà ad aggiornare o invece mi verrà giù in maniera spaventosa non lo so quindi attivando lo strumento io che faccio io trader che faccio tre trading da tanto tempo mi accollo il rischio di perdere 500 mille euro a fronte di guadagnarne una marea ok ci siamo perfetto conclusa questo discorso incentrato principalmente sul sull'anti martingala in doppia doppia visione quindi sia di incremento che di decremento quindi un'anti martingala flessibile che comunque vi da anche la possibilità della chiusura automatica con la percentuale eccetera eccetera vi dico che risparmiando questi 5 mila euro io questo ve lo metto a disposizione un prezzo lancio dopo sei mesi di lavoro questa cosa a 499 499 euro la possibilità di avere questo strumento a vita modificabile perché avete visto che i settaggi sono modificabili e tutto se doveste essere interessati mi potete contattare attraverso il numero attraverso il sito ovviamente accademia del trading punto com o anche se volete attraverso il numero verde quindi da poco è stato attivato anche il numero verde che sarebbe quello che vedete qui adesso ve lo metto in mostra eccolo qua 800 852476 ok vediamo se riesco a metterlo più piccolo così magari si vede meglio ok eccolo qua numero verde ovviamente chiamata gratuita perfetto 800 852476 per qualsiasi informazione mi potete contattare e niente ragazzi io vi ringrazio per la pazienza è stato i 40 minuti ad ascoltarmi vi invito a seguire il mio canale attivare la campanellina iscrivervi sul canale youtube mettere il like sul sul video se vi è piaciuto fare uno sharing perché mi sono accorto che il trading automatico la playlist del trading automatico ha riscosso veramente un successo importante quindi vi prometto che non ci saranno più 5 mesi 6 mesi 8 mesi di vuoto nel trading automatico ma se questo questo video riscontrerà insomma un buon successo ho già pronto qualcosa in mente e quindi ve ne parlerò nelle prossime nei prossimi giorni ovviamente il prossimo argomento deve essere necessariamente la martingale ok quindi un altro prodotto un altro strumento molto speculativo dove si può guadagnare tanto ma allo stesso tempo si può perdere tantissimo quindi anche quello una lamborghini oggi abbiamo parlato di ferrari la prossima volta parliamo di lamborghini tra l'altro ci sono tantissime altre situazioni che sto elaborando quindi vediamo un po che fine fa questo video dai gli altri sono andati benissimo vediamo questo grazie ancora per l'attenzione alla prossima ciao